musica 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 beh ciao ragazzi ciao ragazzi oggi vedete la nostra reazione al campionale di serie A 2023 2024 i calendari 23 e 24 spieghiamo come come ma come l'altro spero di beccare qualche una volta per tutte le squadre però la squadra più facile lecce lecce dove siamo sono curioso con i cagli i cagli da quinta in serie A da un giro in serie A poi c'è un altro A e poi ancora due a camilla sanitario noi abbiamo frattesi non è ancora lenta no è già lenta ci ha passato la vista noi abbiamo già tre tre giochi nuovi da bisec e due macchi costruzione quasi manca solo la del contatto ci vediamo dopo altra poco beh se sta a commento la prima giornata di storia c'è 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 Monza Inter Monza in casa in casa in casa in casa in casa la prima giornata Inter Monza la prima giornata in casa seconda giornata Cagliari Inter Cagliari in trasferta però Cagliari trasferta Cagliari trasferta Cagliari Inter la seconda terza giornata Inter Fiorentina in casa in casa in casa in casa terza giornata Inter Fiorentina quarta giornata derby uh derby in Milan in casa in casa tre e quattro in casa ma abbiamo subito il derby di Milano quinta giornata è un po' di Inter ah ho trasferto è un po' di trasferta ti è un po' di Inter quinta giornata sesta giornata Inter Sassuolo in casa in casa in casa e poi ah Juve Lecce sesta giornata Inter Sassuolo Settima giornata Salentana Inter in trasferto in trasferto trasferto Settima giornata Sassuolo sì Salentana Inter in casa che può essere più morbida ottava giornata Inter Inter Bologna Bologna in casa in casa Inter Bologna Rese Nuna giornata I Torino Inter non no non da che sai che potenti potenti non giornata Turino roma ah ecco qua in casa si in casa interrum decima interrum undicesima giornata atalanta inter qui in trasferto atalanta inter la undice la dodicesima giornata inter frasinone la prima della serie in casa la 13 ora vediamo la 13 mentre la 13 juve inter juve in trasferto mamma mamma la quattordicesima giornata la quattordicesima giornata nato lenta mamma io è nato molto ma si è un obbligo di il primo giorno so dove oh so dove partire da in trasferto la quattordicesima giornata la quattordicesima giornata quindicesima giornata inter udine inter il trasferto inter il trasferto se la sette inter la dicesettesima interleccio interleccio in casa in cosa 17 interleccio la diciottesima genova inter inter la diciottima inter la diciannovesima giornata inter verona verona in casa inter una alla diciannovesima alla ventesa giornata monza inter buono mi sa alla ventunesima inter atalanta 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 in trasferto alla ventiduesima fiorentina inter ventina inter ah in trasferto eh tre tre in trasferto cosa vuol dire venti venti tre inter juve inter juve segnatevi la data inter juventus asciro in casa ma qua spunto ventitre ah no ah ah venti quattro r-r-r-r-r-r-roma inter distecuto eh vadeceni andiamo ma minuscola vadeceni inter entrana in ah cosa basta chi c'è 26 giornata, Lecce-Inter Lecce in trasferto 27 giornata 27 giornata, Inter Genova in casa 27 giornata, Inter Genova 28 giornata, Bologna-Inter 29 giornata, Inter-Napoli 29 giornata, Inter-Napoli 29 giornata, Inter-Napoli Già 7 marzo La numero 30 Inter Empoli Empoli In casa No in casa No dammi la mettere 32 sulla giornata Udinese Udinese In trasferta 32 sulla giornata I derby di Milano I derby di Milano Mila Inter Poi Alla 33 Alla 33 Alla 34esima Inter Torino Alla 35 sulla giornata Inter Sassuolo Sassuolo Inter In trasferta Alla 36esima Torino Inter In trasferta Vabbè Poi Alla 37esima Inter Lazio E all'ultima giornata Come All'ultima giornata Inter E la stessa Non è Inter Alla 37esima Alla 37esima Alla 37esima Alla 38esima Beh ragà Questo è il calendario Cosa ne pensi? Non mi aspettavo di meglio Una volta Non dalle tutte Ah si però Mi piacerebbe che l'ultima La fa fuori casa Linde Ah fuori casa Però vabbè Beh Ci vediamo All'agosto Alla prima Dalla prima giornata Ciao ragà Alla 38esima Alla 38esima Alla 39esima 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 Grazie a tutti.